Oggi realizzeremo un flan di zucca alle nocciole, alici e una fonduta cremosissima di castelmagno. Come prima cosa cuociamo la nostra zucca in forno, trasferiamola in un tritatutto aggiungendo l'uovo, le nocciole precedentemente tostate, un giro d'olio, un pizzico di sale, un filetto di alici e frulliamo tenendo una polpa liscia ed uniforme. Trasferiamo nei nostri stampini precedentemente unti riempiendo per circa tre quarti e cuociamo a bagnomaria versando acqua calda e trasferendo in forno. Latte, pepe, noce moscata mescoliamo e quando sarà caldo aggiungiamo il nostro castelmagno mescolando con una frusta ottenendo una salsa liscia. Con il nostro flan cotto andiamo ad irrorarlo con la nostra fonduta, le nocciole precedentemente tostate e andiamo a ultimare il tutto con un filetto di alici in olio di oliva in superficie. E con quasi tutta certezza vi dico che questo sarà l'antipasto che farà innamorare i vostri ospiti con pochi e semplici mosse. Buon appetito!